Ci sono tanti di un evento, non c'è? Vadovi, fanno un po' sentire se è la planiera di quella doppia di una volta. Favorire l'integrazione tra giovani e anziani è l'obiettivo del progetto dell'Anteas, integrazione attraverso le arti. Una bellissima iniziativa che tratta di solidarietà attraverso le arti, che coniuga le varie stagioni della vita, da quando siamo bambini a quando siamo adulti e quando siamo anziani. Chiedo che sia una bellissima iniziativa che rilancia appunto il valore della socialità, della solidarietà, valori che in questa società sembrano più che vadano persi. Noi crediamo, come CISL, Lantersa è una nostra associazione, che invece si debba rimettere al centro questi valori, perché per una società che non derivi nell'indifferenza, nell'individualismo, nell'abbandono anche di, purtroppo, tante persone che poi vivono da soli. Un progetto che ha visto la partecipazione di tre scuole, quelle di Piteli del 2 giugno e di Sesta Godano, e di otto centri anziani del Comune della Spezia. Che cos'è emerso da questo progetto? È emerso che le diverse generazioni hanno bisogno di tempo, di opportunità e di idee per poter stare insieme. Abbiamo così realizzato in varie forme e in varie misure diverse attività che mettessero in centro quello che fosse il dialogo attraverso l'arte. Non belli, i lavori sono stati belli, importanti, di diverso genere. Quanto bello è stato invece il dialogo che è nato tra le diverse parti. Quindi abbiamo avuto nonni che si sono, tra virgolette, adottati altri bambini, nipotini che hanno adorato altri nonni e così via. Abbiamo per un bel periodo, per diverse ore, accantonato quello che potesse essere il problema della solitudine grazie all'opportunità che i centri sociali ci hanno dato accogliendo le nostre proposte sotto diverse forme, quindi pittura, teatro, musica, creatività e quant'altro. Un'iniziativa per avvicinare sempre di più i giovani agli anziani. Siamo sempre più soli e abbiamo perso un po' la capacità di stare insieme, invece ritrovandola con progetti come questo che lega i giovani, i più giovani, agli anziani, ai nostri nonni, ai nostri genitori, è fondamentale per una società più umana, una società più rispettosa del prossimo e soprattutto piena di valori che veramente mancano e sui quali noi dobbiamo lavorare ogni giorno.